siamo al campo di rivarolo canavese in provincia di torino con mirco simone salvatore di pro s3 per vedere volare la macchina idroni venture un quadricottero professionale nato sostanzialmente per fare aerofotogrammetria ma che può servire anche per molti altri tipi di operazioni specializzate ecco la ground station e la radio per il pilotaggio che è una normale radio da aeromodellismo giusto 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 il volo verrà condotto tutto in manuale per vedere qualche comando come vola faremo un giretto e poi passeremo al volo automatico successivamente perfetto quando siete pronti partiamo a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.